Dalla Pedusa alla Valla Aurina a piedi, più di 2000 km in 100 giorni, con la tenda sulle spalle e in compagnia della fidata cagnolina tosca. È il viaggio simbolo del pretese Gianluca Mantovani, affetto da patologie autoimmuni, che ha deciso di sensibilizzare l'opinione pubblica e lanciare un messaggio a chi soffre di malattie croniche. Io sono affetto da due patologie autoimmuni, che sono l'altrite reumatoide e la Sjogren, e voglio semplicemente dar voce a chi voce ne ha troppa poca, secondo me, perché manca molta conoscenza su questo tipo di malattie, che sono in realtà molto molto presenti nella nostra società e che, anche se in maniera silenziosa si innestano in noi, sono ahimè patologie che segnano molto la vita delle persone. Un percorso pianificato in tutte le tappe, anche dal punto di vista sanitario, con tre appuntamenti fissati negli ospedali in Calabria, Lazio e Veneto. È una cosa molto importante perché in qualche maniera va a completare l'azione del medico, perché noi abbiamo poco tempo spesso per parlare con i pazienti e per raccontargli di quanto il loro percorso possa essere più o meno accidentato. Possa avere risalite e discese, risalite e discese, laddove le discese sono quando stanno bene, ovviamente. Tutto il viaggio sarà documentato sulla pagina Facebook della Neo Associazione Vagamonti e dal videomaker Andrea Foligni, che seguirà Gianluca a lungo il percorso, per produrre poi un docufilm. Mentre Francesco Toccafondi proverà insieme a Mantovani a realizzare un libro alla fine del viaggio. Il sindaco Matteo Beffoni ha tenuto a battesimo l'iniziativa. Il sindaco Matteo Beffoni ha tenuto a battesimo l'iniziativa.